Musica Cos'è il calcio nella sua vita? Che significato ha? Sono 25 anni che lavoro con i giovani, quindi è una parte della mia vita che ho fatto con tanto piacere. Cosa significa lavorare con i giovani in crescita, in fase di formazione? Ci vuole una sensibilità particolare? Per quanto possa essere difficile è molto bello perché dai 14 fino ai 18 anni, fino a quando diventano maggioreni, passano delle fasi nella vita abbastanza difficili e loro devono assolutamente stargli accanto perché sono delle fasi molto difficili, però per quanto possa essere difficile è anche molto bello. Si sente un po' il papà, il padre dei suoi ragazzini, dei suoi baby calciatori? Sono 6-7 ore al giorno che passano tutti insieme, sia sul campo che fuori, anche al liceo per esempio lui magari sta dietro a loro, quindi si sente anche più di un padre. La scuola, non tutti diventeranno dei giocatori importanti, quanto è importante per questi ragazzi continuare a studiare? I ragazzi sono preparati per vivere in una società di oggi, quindi per quanto riguarda la scuola mettono di più l'accento sulla scuola perché non tutti, forse nessuno guadagnerà dei soldi dal calcio, quindi la scuola è molto importante. Il rapporto con i genitori c'è pressione perché tutti li vedono dei futuri campioni? È molto difficile la relazione con i genitori, però per quanto possa essere difficile, tutto lo staff sono molto uniti e legati con i genitori perché siccome loro usano il figlio, i genitori hanno bisogno di spiegazioni per quello che fanno, quindi pensano di essere dei mediatori tra il genitore e il club. Dal punto di vista tattico, qual è il suo modulo preferito? Un allenatore che gli piace tantissimo il gioco con la palla e lui sta cercando tanto di fare il possesso palla. Come è organizzata la vostra settimana tipo di lavoro, il vostro schema settimanale? Il secondo giorno dopo la partita come tutti c'hanno libero, poi tutti i giorni c'hanno allenamenti e in base alla squadra che devono affrontare fanno degli schemi tattici. A questo livello è importante lavorare bene sul campo, sul possesso palla dal punto di vista tattico, però è anche importante divertirsi, continuare a divertirsi. Nonostante questo, quali sono i vostri obiettivi stagionali? È importante divertirsi, loro si divertono giocando e in questo sta anche allenatore farli divertire e farli venire all'allenamento divertendosi. Siccome dall'anno scorso sono stati fortunati che hanno avuto, per esempio adesso c'è un giocatore di 17 anni che già gioca con la prima squadra che è partito da qui dai junior, loro stanno cercando, stanno provando di promuovare di più il giocatore anziché i risultati. Quindi per loro è più importante farli crescere e guardare più il giocatore che i risultati sportivi. La maggior parte dello staff della prima squadra sono passati dagli allievi junior, quindi lo staff della prima squadra capisce benissimo quali sono i loro problemi e come stanno lavorando loro. La settimana scorsa quattro dei loro allievi sono stati chiamati nella prima squadra per fare gli allenamenti, quindi per loro, per lui, lui si augura di andare avanti così, sono questi i suoi obiettivi. Per giocare nella prima squadra devi essere assolutamente pronto perché lì non ti danno il tempo di pensare, di adattarti, di vedere se stai bene o non stai bene. Dei giocatori bravi, però non pensa di averne uno adesso che possa fare il salto nella prima squadra. Due classi 97 sono già stati iscritti, ha fatto anche la Coppa UEFA, quindi due di loro sono più bravi. Ha già preparato dei giocatori che lui pensava che erano pronti per fare il salto, poi magari nelle squadre non hanno trovato spazio. Lui però pensa che i grandi club, i veri grandi club, lavorano tantissimo ed è importantissimo far lavorare i giovani. Se sei qui c'hai già talento, quindi se sei serio puoi arrivare. Per quanto riguardano i suoi sogni, lui dice che sogna tutti i giorni e dice che per lui i sogni sono di far arrivare i ragazzi nella nazionale, quindi è un sogno suo. Ha già avuto giocatori, tanti giocatori che erano veramente, avevano un talento, però per colpa della serietà non sono arrivati più dalla serie B. Cuore, testa, corso e passione li deve mettere in ordine. Per quanto riguardano i giovani, il cuore prima di tutto, poi la testa e la passione. Però se un giocatore arriva a giocare ai livelli più alti, lui metterebbe la testa. Grazie.